Con noi Michael Tibollo, Presidente del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, distretto di Toronto, che riceve dal Governo federale una bella somma per un progetto molto interessante che riguarda la comunità italiana. Michael Tibollo ci spiega ora di cosa si tratta. Il progetto è il progetto di creare per il Canada un curriculum in inglese e in francese dei contributi degli italiani allo sviluppo del paese, del Canada. In questo mese abbiamo ricevuto notizie dal Governo canadese che la nostra proposta di creare un curriculum, un materiale che si utilizzeranno in inglese e in francese, a studiare la storia canadese, verrà scritto un curriculum che parla degli italiani e i contributi degli italiani allo sviluppo del Canada. Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto, o riceveremmo, 250 mila dollari per fare questo progetto. Il progetto inizierà il prossimo mese di dicembre, sarà concluso, speriamo, per marzo dell'anno 2014, che verrà introdotto nelle scuole, almeno in Ontario per 2014 e poi verrà anche portato per tutte le province, per tutto il Canada, con l'intenzione, l'idea che un giorno quando un ragazzo inizia la scuola, quando arriva a grade 6, che lui inizia a studiare Social Studies, la storia canadese, verrà incluso una parte che parlerà dei contributi non soltanto dei giapponesi, dei cinesi, dei ukrainians, però anche degli italiani, quello che hanno fatto, quello che hanno sofferto, quello che sono stati capaci di creare per aiutare lo sviluppo di questo grandissimo paese. Dunque siamo molto orgogliosi di avere l'opportunità di preparare questo documento che verrà distribuito per tutto il Canada.